Il clamoroso gesto del ministro Fitto all'indomani della sconfitta elettorale del centro-destra in Puglia non ha mancato di originare reazioni nel panorama politico. Sarcastico il commento del leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro. Prima voglio vedere se le dimissioni arriveranno a domani. Tato Greco, esponente di punta della Puglia prima di tutto invece, sta con l'ex governatore. È un gesto di grande responsabilità verso il territorio e verso il governo nazionale. Spero che dall'altra parte si valuti attentamente la situazione e ritengo e credo, ma sono convinto, che le dimissioni verranno respinte. Commenta le dimissioni del ministro anche il presidente della provincia di Bari, Francesco Schittulli. Siamo di fronte ad un politico che sa prendersi tutte le responsabilità, anche quelle altrui, ma dovrebbe ripensarci. Apprezzamento per il gesto di Fitto da parte del coordinatore regionale dell'Udc. Si tratta di un gesto di rilevante impatto politico, ha detto Angelo Sanza. Anche Pino Pisicchio ha apprezzato il gesto del ministro Fitto. Ha compiuto un gesto di grande dignità e assai più eloquente delle dichiarazioni dei suoi sodali, ha dichiarato il deputato dell'Api. Abbottonato invece il commento dell'assessore regionale uscente, Onofrio Introna. Il Fitto, dopo la sconfitta, come di solito si fa in democrazia, ha rassegnato il suo mandato assumendosi la responsabilità della sconfitta. Questo non significa che il governo e Berlusconi saranno obbligati ad accettare le sue dimissioni. Il suo è un atto di grande responsabilità. Le valutazioni le farà la Casa della Libertà. Un atto doveroso, oltre che un'assunzione di responsabilità politicamente apprezzabile, è anche il commento dell'eurodeputato del PDL, Salvatore Tatarella. Auspica un ripensamento invece Massimo Cassano, primo degli eletti nel nuovo Consiglio regionale pugliese, con il centrodestra. I dati si devono soprattutto valutare successivamente. Servirà qualche giorno per fare una riflessione. Oggi forse nemmeno il Ministro dovrebbe dimettersi dal suo incarico. Mi sembra un prematuro.